La relazione annuale del commissario straordinario del governo per le iniziative anti-racket fotografa un quadro di espansione dei prestiti a usura, gestiti dalla criminalità organizzata. Un fenomeno diffuso nelle regioni del Meridione, ma anche nel Lazio, a favorirne la crescita e il numero sempre più alto di famiglie escluse dal circuito del credito legale bancario, complici precarietà lavorativa, disoccupazione e crisi economica. Il rischio è molto forte ed è una cosa che si sta effettivamente verificando. Non avendo accesso al credito legale, da qualche parte uno si deve rivolgere. Spesso sono gli stessi usurai che avvicinano le persone sapendole in difficoltà. Ovviamente tutto questo va ad inquinare il tessuto economico sociale del territorio, perché soprattutto per quanto riguarda attività produttive, imprese, nel momento in cui il titolare di un'attività imprenditoriale è vittima di usura, lì c'è il forte rischio che l'usuraio voglia subentrare, subentri nell'attività. E lo ricordiamo per le persone e le famiglie in difficoltà economica che rischiano di finire nel giro degli usurai o che già sono nelle mani degli usurai. A Ostia c'è lo sportello dove ci troviamo in questo momento, dove sono a disposizione una serie di strumenti d'aiuto. Sì, ormai da 20 anni esiste lo sportello anti-usura che fornisce assistenza bancaria, psicologica, legale alle persone che si trovano in difficoltà in una situazione di sovraindebitamento, quindi a rischio di usura, o già vittime di usura. Noi ci teniamo a ribadire il nostro appello a denunciare, perché l'unico modo per uscire dalla morsa dell'usura è la denuncia. Questi numeri che sono quelli poi emersi nel corso di una recente indagine rischiano di essere anche numeri per difetto, perché noi ci siamo ormai da anni ad una progressiva esclusione bancaria, cioè categorie di soggetti che non hanno più modo di accedere a quelli che sono i finanziamenti bancari. Peraltro ad un'esclusione bancaria segue un'esclusione sociale, cioè l'impossibilità poi di vivere in modo normale un'esistenza come oggi è disciplinata. Un soggetto che non può accedere agli strumenti di finanziamento legale rischia di diventare preda degli usurai. E quindi è un problema molto serio per noi che invece cerchiamo di aiutare queste persone, perché la domanda cosa fanno le persone che non hanno accesso al credito bancario è una domanda che dobbiamo porci.